E' in arrivo al binario 8, il treno Eurostar City Plus 9829, delle ore 21 e 40, proveniente da Bologna Centrale, il treno viaggia con 20 minuti di ritardo, Trenitalia si scusa per il ritardo. E' in partenza dal binario 11, il treno regionale 2029, per Milano Centrale, delle ore 21 e 12 minuti, ferma a Torino Porta Susa, Chivasso, Santia, Vercelli, Novara, Magenta, Rofiera Milano, Milano Centrale, carrozze di prima classe in testa al treno. Attenzione, il treno regionale 2843, delle ore 21 e 55, proveniente da Milano Centrale, in arrivo al binario 13, anziché dal binario 16. Il treno regionale 284, delle ore 21 e 55, proveniente da Milano Centrale, delle ore 21 e 56, proveniente da Milano Centrale, Attenzione, è pietato oltrepassare la linea gialla in appesa dei treni. Attenzione, è pietato oltrepassare la linea gialla in appesa dei treni. Intercity, 3726, Marconi, per Roma Termini, delle ore 20.55, è in partenza dal binario 6, ferma a Asti, Alessandria, Genova Piazza Principe, Rapallo, Chiavari, La Spezia Centrale, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Grosseto, Cività Vecchia, Roma Termini, carrozze di prima classe in coda al treno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Attenzione, è pietato oltrepassare la linea gialla in appesa dei treni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.